Oggi in presidio sotto la prefettura di Napoli per chiedere che cosa? Per chiedere che finalmente possa essere fatta giustizia non formale, ma giustizia reale per Marta, per Daniela e soprattutto per Ruben. Un atto formale del prefetto non può privare a Ruben la felicità di essere cittadino italiano con entrambe le mamme. Ruben avrebbe due identità, una in Spagna e un'altra in Italia, insomma si creerebbe una situazione veramente molto strana e ovviamente è assurdo il non riconoscere entrambi i genitori del bambino laddove nell'atto di nascita è chiaramente scritto. Il prefetto vi ha ricevuto? Voi oggi chiedevate al prefetto di essere ricevuti? Il prefetto non ci ha ricevuto, ovviamente non c'è stata una richiesta formale, ma come tutti i sitini che vengono improvvisati si è fatta una richiesta pubblica di essere ricevuti dal prefetto, così come abbiamo poi chiesto alla Dicos di fare da mediazione con la prefettura, ma non siamo stati ricevuti. Per noi questo è un atto anche di grave scortesia, è un atto anche grave politicamente, perché forse il prefetto poteva anche non esserci, ma potevamo essere ricevuti da qualcuno, da un funzionario che in qualche modo ci faceva poi presente che da qui a qualche giorno avremmo avuto un regolare incontro con il prefetto. Siamo molto dispiaciuti, rammaricati ed è qualcosa che non capiamo, quindi invitiamo ancora una volta, anche pubblicamente, il prefetto a poter ricevere una delegazione della comunità LGBT. Siete due mamme come Daniela e Marta? Purtroppo per l'Italia solo io sui documenti sono la mamma di Eleonora, quindi risulta con un solo genitore, quando non è così.